Buongiorno Mattia, Presidente del Forno dei Gioni, Giore del Greco, oggi siamo qui alla passeggiata Porto Scala, sicuramente non per sostituirci a chi deve pulire questa zona, ma per lanciare dei messaggi, chiaramente, questa è solo una polizia a scopo dimostrativo che vuole lanciare dei messaggi, in primo luogo un messaggio sicuramente che riguarda l'importanza di questa zona, per accendere un faro sull'importanza di questa zona che doveva essere, dovrebbe e io spero sarà, una cartolina di Torre del Greco, un posto che oggi è utilizzato e frequentato dalle mamme e dai papà che portano i figli qui alle giostrine, da chi fa attività sportiva, dai ristoratori che hanno investito in questa zona perché ne vedono un punto forte della città che si può sviluppare, ma siamo qui anche per lanciare un altro messaggio, che molto spesso è semplice dare la colpa alla politica, a chi non pulisce, però noi oggi ci interroghiamo su quanto la colpa è anche nostra, secondo noi abbiamo anche il 50% delle responsabilità e quindi crediamo che il cambiamento passi dalle piccole cose e già non buttare a terra i volantini che abbiamo preparato questa sera è un piccolo passo verso una Torre del Greco più pulita e più civile. Credo va bene così.